E poi il volley con la Superlega, sono iniziati i play-off scudetto. Penora invece apriamo la pagina dedicata al volley, volley maschile, perché sono iniziati i preliminari dei play-off scudetto della Superlega con la gara 1 appunto dei preliminari. Modena ha battuto nell'anticipo Ravenna 3-0, più sofferto del previsto invece il successo di Milano su Verona per 3-1. E' stato un match divertente con la squadra di Piazza che ha giocato un'ottima prima parte andando sul 2-0, salvo poi subire il ritorno della squadra ospite che è andata a un passo dal quinto set. Bella la sfida a distanza tra i bomber, 21 punti per Patry, 22 quelli di Kazischi. Andiamo però a sentire anche il commento a caldo dopo il match di coach Roberto Piazza. Sono i play-off, la chiamano turno preliminare, sono i play-off e si vede, la tensione è molto alta, nessuno ci sta a soccombere, penso che sia evidente. La cosa bella è che abbiamo fatto due set importanti secondo me e nel terzo invece abbiamo avuto la fretta di chiudere in alcune situazioni molto semplici con tre free ball che non abbiamo trasformato. Quando una squadra come la nostra, che ha già coattori, che comunque sono esperti, non riesce a concretizzare il buon lavoro fatto con battuta, muro difesa, dopo diventa tutto più difficile.